12 metri fino alla cima della rocca dura circa 6 minuti Nella stazione superiore potrà conoscere le famose scimmie barbari Non si dimentichi che sono creature selvagge E' un'altra cosa che si vengono a vedere Per questo è meglio non toccarle, mi andrebbero a procrearsi Appena raggiunta la stazione superiore può andare al caffè E ritirare il suo pacchetto di visita multinazionale Oppure in Qlify alla rete Tours Nelle terrazze troverà degli audiotelescopi strategicamente ubicati Con il nostro caffè climatizzato Per godere i meravigliosi paesaggi Inoltre abbiamo Welcome to the cable car Please listen carefully to some important information for your interest and safety The 412m ride atop of the rock will take approximately 6 minutes At the top station you will have the opportunity and will bite if provoked So please do not touch or feed them And be careful not to take out any food or plastic bags in front of them As the monkeys will grab them Won't you reach our host network using our wifi code Extra information is also available from the talking telescopes Strategically positioned around the terraces Relax and savor of their gifts Not available in town to choose from Please take note that the cable car will not stop at the middle station Which is from April to September inclusive I love that This was a great big dog A hispa It's a revelation My iPhone It's a religious It's a enemy It might be the most Chetze Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.